pensi di avere meno di quanto meriti hai questa impressione che tu dai tanto però non ricevi tanto quanto tu dai non c'è equilibrio sì la legge dello scambio tu incominci a scambiare però però non arriva la ricompensa alla stessa velocità con cui tu scambi che cosa puoi fare? ho già risposto a questa domanda l'ho spiegato anche in questo libro intitolato Vivi bene etico e felice con le domande di come la vita quando ti sorride ti voglio leggere un brano che precede un potentissimo esercizio da fare quando hai l'impressione di non ricevere abbastanza rispetto al valore che tu dai il brano che ti voglio leggere si trova anche se quotidianamente ti impegni potrebbe succedere che tu abbia l'impressione di non venire ripagato quanto meriteresti almeno secondo te in base alle tue aspettative e ai tuoi bisogni nella tua quotidianità una simile impressione una simile impressione indebolisce la tua voglia di agire perché temi di ricevere ancora indifferenza e frustrazione risolvi questo aspetto altrimenti arrivi a bloccarti del tutto inoltre potresti credere di aver subito delle ingiustizie se lo pensi allora comincia a notare se ci sono degli schemi ricorrenti cioè se ti capita di sperimentare più volte persino in situazioni diverse lo stesso tipo di situazione che ti danneggia se ciò accade ecco un valido esercizio e te lo spiego è lungo te lo leggi se sei interessato se sei interessata all'argomento te lo leggi se dici ah no dimmelo adesso adesso andavi di fretta fino a 5 minuti fa neanche immaginavi che avresti incontrato una risposta un esercizio questo problema quindi se ti interessa leggilo il titolo del libro è semplice vivi bene etico e felice c'è il link indicato per scaricarlo il punto è questo che se tu hai l'impressione di ricevere meno di quanto dai è perché sei in connessione con individui scarsi ti faccio un esempio prendi me prendi questo canale gli ottimi video che faccio da 14 anni registro questo video nel 2023 siamo nel 14esimo anno di esistenza di questo canale ecco se io considero tutto il valore che do gratuitamente da 14 anni tutto l'impegno che metto al di sopra di quanto mi costa materialmente allora è evidente che io non ricevo tanto quanto do e c'è allora se non ricevi tanto quanto dai perché continui ad andare avanti risposta perché mi collego ai piani superiori mi collego a una visione etica non mi collego a quei 4 iscritti che poi stando ai numerini in questo momento sono 32.000 un esercito togliamo i 3 che scrivono commenti gli altri 32.000 non ci sono ecco non li considero nemmeno evidentemente hanno altre priorità quindi mi sento riconosciuto mi sento utile nella visione etica ed è per quello che vado avanti se mi accorgessi che faccio qualche cosa che non ha senso non lo faccio infatti se mi dedico a come la vita quando ti sorride vuol dire che non mi dedico alla pubblicità ad esempio io sono un pubblicitario quindi potrei dedicarmi alla pubblicità ma non è una cosa etica l'ho già fatta l'ho già sperimentata non ha più senso soprattutto adesso ripeto siamo nel 2023 e dal 2020 sono successe diverse cose ma se tu ti accorgi che sei dentro una situazione in cui non ricevi nulla una situazione in cui tu non vedi il senso del perché fai quello che stai facendo stai usando degli schemi mentali è terribile che tu continui a fare delle cose che non ti piacciono per cui non vedi alcuna ragione per farle ma le fai perché non hai alternative è terribile che tu non veda alternative su questo pianeta o è ancora più terribile se tu sai che ci sono alternative ma preferisci restare attaccato alla materia che ti paga ti pagano pagano e per quanto guadagni 100.000 euro al mese no alla settimana è per quello che lavori ah no al giorno è per quello che tu lavori nella materia perché guadagni così tanto complimenti ah no no non è vero quindi non hai alcun motivo per stare lì a soffrire ma allora stai usando degli schemi mentali forse qualcuno ti ha inculcato l'idea che soffrire è bello ti hanno detto che correre sulla ruota del criceto ti nobilita ecco quello è uno schema mentale se comincio a capire che non è uno schema mentale vitale allora potresti iniziare a decidere di cominciare a vivere eh ma come si fa lo spiego in questo libro che affronta tutti i temi dell'esistenza l'inquadra si intitola vivi bene etico e felice con le domande di come la vita quando ti sorride non aspettare un'altra vita una reincarnazione eh sei qua adesso dici ma ci sarà una ressurrezione sì ci sarà una ressurrezione se tu la meriti perché ti impegni adesso eh già la ressurrezione perché se la merita quindi adesso vivi bene etico e felice con le domande di come la vita quando ti sorride mi 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 mi